I defibrillatori garantiscono, se usati nei primissimi minuti dall'arresto cardiaco, dallo 75 all'80 anche per cento di sopravvivenza in più rispetto alle manovre animatorie classiche. Con questa premessa, noi di Rete Veneta abbiamo fatto il punto della situazione sui defibrillatori in città e in provincia. Ce n'è 558 in tutto il Vicentino, ma a cosa servono se nessuno sa usarli? Per questo, con il 118, mostriamo direttamente ai nostri telespettatori come funziona un defibrillatore. All'apertura del defilatore, questo si attiva automaticamente, fa una check rapida. Rimani caldo, segui queste istruzioni. Chiamare subito il 118. Iniziare esponendo il torace del paziente. Rimuovi o taglia gli indumenti se necessario. Con il torace del paziente esposto, rimuovere la confezione bianca quadrata dal coperchio dell'AED. Aprire la confezione bianca lungo la linea tratteggiata e rimuovere gli elettrodi. Una volta che si apre la confezione, si prendono i due elettrodi, si separano, si posizionano uno, diciamo, all'altezza della spalla di destra e l'altro invece sul fianco di sinistra, in modo tale che la corrente, passando da un elettro all'altro, attraversi il cuore che sta al centro. Quindi questa è la sua funzione. Una volta che è stato fatto questo, il defibrillatore va in analisi automaticamente, quindi non c'è bisogno di nessuna attività da parte dell'operatore. Analizza, alla fine dell'analisi, che dura circa una ventina di secondi neanche, il defilatore dice che il ritmo è defibrillabile, si carica e consente all'operatore di premere il pulsante rosso che avevate prima lampeggiante e che diventa invece rosso fisso. A quel punto l'operatore deve solo controllare che nessuno tocchi il paziente e derogare la scarica, altrimenti il defibrillatore dice non è necessario erogare la scarica, procedere col massaggio cardiaco e l'operatore deve cominciare a massaggiare il cuore ovviamente dall'esterno, mantenendo i due elettrodi posizionati, perché dopo due minuti il defibrillatore tornerà in analisi per verificare se il ritmo a quel punto è diventato defibrillabile o meno.